Storia della razza. Il prototipo mau egiziano è un'antica razza selezionata naturalmente, il cui aspetto non ha subito cambiamenti significativi in più di 3.000 anni, questa è l'età dell'opera su cui era figurata. Nell'antico Egitto, il gatto è un animale sacro, la personificazione della Dea della Luna, della fertilità, dell'amore e del focolare Bastet. I templi di tutto l'Egitto erano dedicati alla Dea, e quindi al gatto. Il gatto fu il primo ad essere portato fuori dalla casa in fiamme, in segno di lutto per un gatto morto, il proprietario in lutto si è rasato le sopracciglia, un gatto, come incarnazione di una divinità, è stato mummificato, colui che ha fatto del male al gatto, è stato lapidato a morte. Nella città di Beni Kazan, gli archeologi hanno trovato un cimitero di gatti con 180.000 mummie di gatti. Le mummie erano in sarcofagi d'oro e d'argento, intarsiati di pietre preziose. Erano questi e altri gatti, che erano venerati nell'antico Egitto. La storia moderna del Mao egiziano inizia cento anni fa, quando allevatori provenienti da Italia, Svizzera e Francia iniziarono a ricercare e ricreare questa razza. Tuttavia, la Seconda Guerra Mondiale ha inferto un duro colpo alla razza, distruggendo quasi tutto il suo bestiame. A metà degli anni Quaranta, la razza aveva praticamente cessato di esistere. Deve la sua rinascita dalle ceneri agli sforzi della principessa russa Natalia Trubetskoi, che in quegli anni visse in Italia. La principessa Trubetskaya ha registrato loro, e la loro prole nell'associazione italiana, un ramo della Fife, e ha mostrato i gatti in una mostra nel 1953. Quando emigrò negli Stati Uniti nel 1956, portò con sé diversi Maunati nel suo vivaio. I gatti d'argento di Lizza e Bava, e il gatto di bronzo Giorgio sono diventati la base del suo allevamento Fatima. Nel 1958 Trubetskaya registrò ufficialmente l'allevamento e 10 gatti Mao egiziano. Tre colori. Argento, bronzo e fumo sono stati riconosciuti per la partecipazione alle mostre. I Black Mao sono nati nel suo vivaio, ma non hanno partecipato a mostre, ma sono stati utilizzati nel vivaio per lavori di allevamento. Quindi, già negli anni Sessanta, gli specialisti spagnoli, ciechi e ungheresi iniziarono ad allevare la razza. Bisogna ammettere che il merito principale nell'allevamento della razza Mao egiziano appartiene ai felinologi americani. Hanno sviluppato un programma di allevamento per questa razza basato su rimbalzi in uscita combinati con una selezione intensiva. Il nucleo della popolazione riproduttiva era costituito da diversi gatti del tipo e del colore desiderati, esportati dal Nord Africa. L'origine di questi gatti è sconosciuta. Ai loro discendenti furono selezionati diversi individui del tipo desiderato, orientali o americani, ma in nessun modo di origine africana. C'era una miscela della razza American Shorthair. Successivamente, per ampliare la popolazione nidificante, un altro gruppo di gatti di origine indipendente è stato esportato dal Nord Africa. In ogni generazione, venivano selezionati in sequenza quegli individui il cui tipo e colore corrispondevano all'aspetto restaurato dei gatti dell'antico Egitto. Questo lavoro è stato coronato da successo principalmente a causa di un'intensa selezione, e anche perché il tipo ancestrale di animali selvatici è stato scelto come quello desiderato, a seguito del quale l'allevamento ha funzionato per gli allevatori. Tutti i discendenti dell'allevamento di Fatima sono chiamati linea originale tradizionale. Nel 1980, Shan Mill importò il gatto Tori e diversi gatti aborigeni dall'India. Avevano un colore bronzo caldo con un ottimo contrasto. Il gatto Deli aveva un mantello lucido unico, un eccellente contrasto e forma delle macchie, una buona salute, che trasmise ai suoi discendenti. Inoltre, ha dato un contributo inestimabile alla formazione della razza del Bengala. I discendenti di questa linea sono conosciuti come la linea indiana. Alcuni anni dopo, Katia Rovana ha portato altri 13 gatti dall'Egitto. All'inizio degli anni 90, Lenda Vison portò dall'Egitto altri 4 gatti color bronzo. Questi gatti e gatti sono stati riconosciuti da organizzazioni felinologiche e i loro discendenti sono conosciuti come la linea egiziana. Questa linea mau egiziano è la più numerosa. L'ultimo gatto è stato portato in Francia dal Cairo nel 1999. Tutti i gatti portati sono stati presi direttamente dalle strade del Cairo e di Deli. La loro origine è sconosciuta, ma hanno dato un contributo inestimabile allo sviluppo della razza, ampiando il suo patrimonio genetico. I mau egiziano sono ormai una razza chiusa. Mau egiziano è stato portato in Europa nel 1988 in tre vivai situati in Svizzera, Italia e Olanda. Sono pochi i vivai mau egiziano oggi in Europa. Quasi tutti sono di origine correlata. Il motivo risiede nel prezzo elevato dei produttori e nella difficoltà di acquistare dagli Stati Uniti. Gli allevatori americani sono molto rilutanti a condividere i loro animali da riproduzione. L'egiziano mau è stato riconosciuto dalla CFA nel 1977, presto è arrivato al campionato TICA e nel 1992 dalla Fife. Ogni gatto di questa razza deve avere conferma della sua origine nel libro genealogico. Attualmente l'allevamento di Fatima non esiste. Ma i discendenti di questo vivaio vivono in molti asili nido in America e in Europa. Punti salienti e fatti interessanti. L'aspetto esotico del mau egiziano è solo l'inizio della magia della razza. I proprietari di mau egiziano li considerano unici sotto molti aspetti, oltre al brillante motivo del mantello maculato. Questi gatti mostrano un'intelligenza eccezionale e una feroce devozione per i loro proprietari. Sebbene siano stati addomesticati, alcune delle caratteristiche dei loro primi antenati sono state conservate. Questi includono l'andatura di un ghepardo, e un lembo di pelle flaccido che si estende dal lato alla zampa posteriore, dando al mau una notevole libertà e manovrabilità nelle virate e nei salti. La maggior parte delle persone è attratta dal mau egiziano per il suo aspetto esotico. Si innamorano di loro a causa dei loro tratti di personalità incredibili e irrefrenabili. Tutti i gatti sono personaggi, ma questi, beh, sono semplicemente adorabili. Come tutti i gatti, sono individuali. Amichevoli con tutti in famiglia, tendono a difidare degli estranei, e scelgono una persona speciale per se stessi. Sul loro territorio, di solito sono estremamente socievoli, non hanno assolutamente paura e mostrano molta curiosità. Sono ottimi compagni. I mau egiziano sono gatti interattivi. Adorano la loro gente e si aspettano di diventare parte integrante della famiglia. Alcuni li chiamano i cugini gentili degli abissini. Sebbene non siano certamente iperattivi, la leggenda narra che abbiano alcuni dei riflessi più veloci mai visti in un felino. Sono cavalieri a spalla, avvoltoi del frigorifero e sveglie pelose. La maggior parte dei mau egiziano ha le idee molto chiare su chi può tenerli e accarezzarli, e quando. Sono gatti sensibili e orientati alle persone, ma amano tutto alle loro condizioni e adorano la loro gente. Quando guardi mau egiziano o li scorgi con la coda dell'occhio, dovrebbero riportarti indietro molte volte a qualcosa di un po' esotico, un po' giungla, un po' eccitante e un po' primitivo. Questi sono gatti incredibilmente belli. Nessun dipinto o libro può trasmettere la bellezza esotica del mau egiziano d'argento in abbaglianti occhi verdi e macchie lucenti, l'eleganza spettrale inerente al motivo mau egiziano o la grazia del leopardo. Questi gatti danno l'impressione di forza, resilienza, grazia e agilità. Si presume che sia un gatto muscoloso con un corpo di media lunghezza. Un pezzo davvero eccezionale stupirà lo spettatore con la sua eleganza e bellezza. Sono ballerine, non centrocampisti, e un corpo atletico, sofisticato ma moderato è la corona della fama di Mauo. Una testa completamente unica con grandi occhi espressivi di uva spina e belle orecchie da medie a grandi con una base ampia per avere abbastanza larghezza nel mezzo.Legende e misteri circondano le origini di questa antica razza reale? Mentre il tempo ha nascosto le vere origini del moderno mau egiziano, con il mau egiziano in posa regale sul tavolo del giudice, e guardandoli con i loro memorabili, potenti occhi, si possono immaginare queste creature che adornano gli antichi templi egizi. E hanno fatto loro pietà. Il mau egiziano era adorato da faraoni e re. La parola mau nell'antico Egitto significava gatto o sole, e non c'è dubbio che gli egiziani adorassero il gatto come un dio, e come un tesoro. Papiri e affreschi risalenti al 1550 a.C. raffigurano gatti maculati. Molti documenti rinvenuti agli albori del nuovo regno chiariscono che il gatto era parte integrante della vita quotidiana oltre che una divinità venerata. Il mau egiziano ha la parola naturale. Il mau egiziano è l'unica razza di gatto domestico con macchie naturali. Pertanto, questi gatti sono limitati ai colori naturali, argento, bronzo, fumo e nero, nonché alle versioni, diluite di questi colori, blu, argento, blu maculato, blu fumo e blu. Sebbene i mau neri e annacquati non possano essere esposti, essi, come tutti gli altri mau egiziani, sono animali domestici eccellenti. Quando cerchi un mau egiziano, dovresti cercare un allevatore rispettabile che sicuramente ti farà una serie di domande per assicurarti che tu e mau egiziano siate compatibili. Non sorprenderti se devi aspettare un gattino per un po'. Ne vale la pena questi piccoli tesori. Gli allevatori di solito rilasciano gattini tra le 12 e le 16 settimane di età. Il mau egiziano è una razza di gatto relativamente rara. Meno di 200 cuccioli sono iscritti al club di razza ogni anno. Più gattini non registrati. Tratti caratteriali distintivi. Questa razza è molto attiva e socievole, che non tollera la solitudine. Al limite dell'ossessione, che richiede un'attenzione costante, molto loquace, con una voce melodica. Giocando costantemente è interessato a tutto ciò che fa il proprietario. È molto affettuosa e socievole, questo gatto richiede attenzioni e cure. Quando è felice, salta sulle zampe posteriori, mentre la coda trema e spesso, spesso scodinzola. Mau è piena di energia, ama il movimento, i giochi, le passeggiate, che hanno un effetto benefico sulla sua figura. Aggraziata, flessibile e muscolosa. I mau sono campioni tra i gatti nella velocità di corsa, fino a 58 km orari. Hanno vista, udito e olfatto eccellenti, il che rende questi gatti ottimi cacciatori. I mau egiziano amano giocare con tutti i tipi di giocattoli e mosche, perché durante questi giochi possono rivelare a pieno le loro naturali qualità venatorie. Mau egiziano entra volentieri in contatto e sa essere anche leggermente invadente. Ma se a una persona piace comunicare con un gatto, troverà facilmente un linguaggio comune con il mau. È impossibile descrivere l'intera gamma di suoni e canzoni con cui comunicano tra loro e con le persone. Alcuni gatti hanno persino un talento musicale e cantano volentieri con i loro proprietari. Mau vuole sempre essere al centro dell'attenzione e guardare tutto ciò che accade in casa. Pertanto, amano sedersi sulle spalle o sulle ginocchia. Inoltre, a seconda dell'umore, i gatti mau possono cambiare l'espressione del muso e il colore degli occhi dal verde al turchese. Questi gatti amano molto l'acqua. Ci giocano, cercando di prenderlo con le zampe, adorano sedersi e guardare il proprietario fare il bagno. Dai loro antenati selvaggi, avevano l'abitudine di toccare l'acqua in una ciotola con le zampe prima di bere. I mau sono più sensibili alle temperature estreme a causa della mancanza di sottopelo. Questa razza è più sensibile ai farmaci e all'anestesia rispetto ad altri gatti domestici. I mau egiziano sono gatti molto puliti. Si abituano facilmente al bagno, e non causano problemi ai loro proprietari. I gatti mau sono madri ideali. Molto spesso, i gatti si assumono, anche responsabilità materne e aiutano a prendersi cura dei gattini. I casi sono descritti quando i gatti aiutano un gatto durante il parto. Quindi i genitori si prendono cura della loro prole insieme, adestrano i gattini e insegnano loro a ordinare. Mau ha un periodo di gestazione insolitamente lungo, circa 73 giorni. In genere, nei gatti, questo periodo è compreso tra 65 e 67 giorni. Prezzo e come acquistare correttamente. La razza mau egiziano è una delle più rare e costose. Il prezzo di un gatto parte da 900 dollari. Più l'animale soddisfa lo standard, maggiore è il costo. Puoi risparmiare solo su mau egiziano colore nero. Poiché le macchie caratteristiche si fondono con il colore principale del mantello, tali esemplari sono considerati abbattuti e non sono ammessi all'allevamento e alla partecipazione a mostre. Tuttavia, se stai cercando un amico leale e allegro, un colore speciale non dovrebbe essere un ostacolo sulla strada per l'acquisizione di un mau egiziano. Linea di fondo. Il mau egiziano è considerato una delle razze progenitrici del moderno gatto domestico. L'esterno della razza è descritto come un equilibrio tra la compattezza del birmano e l'eleganza snella del siamese. Il suo corpo è di media lunghezza e muscoloso, le zampe posteriori sono più lunghe delle zampe anteriori, il che conferisce al mau l'aspetto di stare in punta di piedi in posizione eretta. I mau egiziano sono i gatti domestici più veloci. Anche uno dei tratti riconoscibili più importanti di questo particolare animale è la lunga striscia scura sul dorso, che va dalla testa alla coda lungo la spina dorsale. Mau sono disponibili in sei colori. I più comuni ai meno comuni sono argento, bronzo, fumè, nero, caramello e bluopeltro. Tutti i mau dovrebbero avere gli occhi verdi, ma una tonalità ambrata è accettabile per gattini e giovani adulti di età inferiore ai 18 mesi. I mau sono noti per la loro lealtà, giocosità e cordialità. I mau sono più sensibili alla temperatura della maggior parte delle rocce. A loro piacciono le temperature molto alte. Sono più sensibili ai farmaci e all'anestesia. Mau ha un periodo di gestazione insolitamente lungo, circa 73 giorni. I mau hanno spesso voci molto musicali. Cinguettano, ridacchiano e altre vocalizzazioni apparentemente insolite. Un altro comportamento, abbastanza comune in un mau felice, è stato descritto come scodinzolare. Il gatto, che sia femmina o maschio, dimena e agita la coda e sembra che stia marcando il territorio, noto anche come schizzi, ma il mau non espelle l'urina durante questo comportamento.